Ciao a tutti ragazzi sono Adri, bentornati sul mio canale e per la terza volta in quattro stagioni vi porto il pronostico della finale di Europa League Questo vuol dire che ci sarà anche quel di Champions che uscirà a breve questa settimana Finale inedita, Viglia Real contro Manchester United, secondo voi quanto finirà? Scrivetemelo nei commenti, chi saranno i marcatori? Scrivetemelo nei commenti Intanto godiamoci questo pronostico che viene da MyLife di Twitch, fatto da me e da Simo Non aggiungo altro, vi lascio al video, ci vediamo per tanti altri contenuti Tra l'altro oggi stesso usciranno due video, uno è questo e uno è Live Reaction di Atalanta-Milano Quindi state connessi e buona visione Guarda che magnità figa che c'è qua Ok, ho deciso lo stadio Ok dai Ci siamo quasi Ci siamo? Ci siamo? Sto qua aveva messo Pogba esterno-sinistro Anzi no, attaccante-sinistro Oh, finalina di Europa League? Eh? Beh signori, non mi speggio niente Ma la vinci dai Lì non lo metto io Oh, wow, oh, oh, oh Oh, wow, oh Ok, molto figo, dai, iniziamo Dai, su Dai Subito Subito il Villareal A sbloccarla, signori Chi è? Paco Alcacer, se no chi, Paco Alcacer Distrazione difensiva delle United Ma sei una busta di fave, portiere del cazzo Questo comuni, ma la vuole E qua fa schifo Rushford Baci Troppo lunga, forse no Pfff, dove l'ha tirata? Cosa fa? Piegatemelo Grande Giro, giro, giro tondo Ah Oh, sì Paco Paco No, Gerardo Gerardo Moreno 2 a 0 No No, lui no Lui no Lui no Lui no Lui no Lui no Dai Tutti, ma Rushford no Rushford no Una possiamo fare No Cosa? Ecco, mi ha distratto Ecco, mi ha distratto Mi ha distratto Mi ha distratto Devi sta Bono Destro Pum Un fuoco Ancora lui Ancora Moreno 3 a 1 3 a 1 Via aiari Kick of Glitch Ancora Rushford Ancora Rushford E non la smette Cioè È una malattia di Rushford Questa No Sbucato da nulla Rigore, rigore Non sono batteri Rigore Cosa? Voglio rivederlo Fabio, voglio rivederlo Basta Volevo rimanere centrale Dai Volevo Bastardo Bruno Fernandez No Il quarto no 10 Ti riporta Torniamo al caserno Mettiamo bacca No Cattino di merda No Sulla testa Perché è tirato Col sinistro Ma perché Che cazzo Mi sono mangiato No ma sei Sei una testa di cazzo Ancora È punizione Ancora A E se No Io Ho Un Espulso Io Ho Un Espulso Bacca 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 cuore rosso nero bacca cuore rosso nero uomini forti destini forti uomini deboli destini deboli Bobba bacca cuore rosso nero tripletta chi di sei gol ferisce di sei gol ferisce e niente bacca cuore rosso nero pocher mai vista anche l'ottavo me l'ho sbagliata questa cazzo vi la rialza e ricorderei buon vita ma anche noi non avevamo un Europa League così raga 4 gol bacca cuore rosso nero e quindi mi ha fatto più tiri in porta a te lo so 29 tiri totali che roba è a te a te Grazie a tutti